Vendeva eroina in casa, fuori dal suo appartamento. C'era infatti un insolito via vai di giovani, soprattutto nel fine settimana, ma non solo. Era stato infatti notato in più occasioni a girarsi con fare sospetto in un parcheggio di un supermercato, oppure nei locali notturni valdarnesi, mentre scambiava velocemente qualche parola con gli avventori che lo avvicinavano, probabilmente in cerca di una dose. Ma adesso è finito dietro le sbarre, con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un 37enne nigeriano con regolare permesso di soggiorno e nulla facente. Ad individuare ed arrestare il pusher lo scorso sabato, al termine di una lunga e complessa attività di indagine, sono stati i finanzieri della compagnia di San Giovanni Valdarno. Nell'ambito del dispositivo traffici illeciti, la pattuglia ha notato dei movimenti sospetti sotto casa di un cittadino nigeriano e successivamente è stato fermato un soggetto che aveva acquistato due dosi di stupefacente di eroina e la perquisizione effettuata in casa del nigeriano ha permesso di sequestrare circa 20 dosi di stupefacente, sempre di eroina, oltre a 150 euro e un paio di telefoni cellulari. Il servizio rientra tra quelli disposti dal comando provinciale di Arezzo a contrasto dei traffici illeciti allo spaccio di sostanze stupefacenti con particolare attenzione alle aree più sensibili della provincia aretina. Viene fatta una preliminare mappatura e vengono individuate giornate, luoghi e orari ritenuti più a rischio.